lunedì 7 ottobre buongiorno buon inizio di settimana ben ritrovati siamo qui puntuali come tutte le mattine per la nostra rassegna stampa andiamo dunque a vedere cosa ci propongono i quotidiani ne dico la stamane daremo un'occhiata alle varie prime pagine per scoprire quali sono i temi caldi di oggi gli argomenti principali lo faremo come sempre dando un'occhiata analizzando i titoli in primo piano cominciamo subito il nostro giro lo facciamo partendo dai quotidiani di casa nostra il quotidiano la sicilia una ricca prima pagina anche lo sport il calcio in questo caso catania ora si vola i rossazzurri espugnano caserta in rimonta 3 a 1 e salgono adesso a meno uno dalla vetta dunque finalmente il catania sembra aver intrapreso la strada giusta nel campionato di serie c ieri un'importante vittoria in trasferta 3 a 1 a caserta e dunque adesso il primo posto in classifica è più vicino complimenti alla squadra rossazzurra altre notizie in primo piano sul quotidiano la sicilia fratelli d'italia dalla sicilia avviso agli alleati l'evento a brucoli i meloniani danno la linea foto siamo noi la destra che conta e che vince e poi la personaggio giuli il coloniale che non fa prigionieri destra deve finire la logica del rancore ancora politica salvini santa alleanza sovranista ma pontida non si parla del ponte sullo stretto si parla in questo caso del raduno della lega appunto a pontida la situazione in medio oriente israele all'attacco dell'iran finirete come gaza e beirut questa l'ennesima minaccia arrivata appunto da israele poi cortei e incidenti oggi e domani massima allerta in taglio laterale a castelvetrano iddu proiettato al teatro selinus dopo il no dell'unico cinema mentre per quanto riguarda la rubrica lunedì siciliano sul quotidiano la sicilia campionati fipsas video foto sub gli atleti catanesi trionfano a capri in taglio alto porta a porta escluso dalle celebrazioni rai bruno vespa si arrabbia e sbatte la porta giro delle città partendo da catania grave una ragazza travolta al viale doria aveva un marsupio nel marsupio scusate un panetto di hashish anche in questo caso la notizia arriva da catania e poi paterno naso attendiamo la suprema corte mentre per quanto riguarda il parco archeologico naxos taormina adesso c'è un nuovo direttore lasciamo il quotidiano la sicilia restiamo nell'isola andiamo a vedere la prima pagina del giornale di sicilia questo l'argomento di apertura palermo è un'anomalia schifani non accetta la tregua vuole fuori dalla giunta la galla gli assessori d'italia viva lo stesso partito di faraone che lo ha attaccato le parole del sindaco di palermo la galla rimpasto forse a gennaio ha dichiarato il primo cittadino arriva un altro concorso per assumere 79 funzionari il bando entro l'anno e poi anche qui il raduno di ponti da salvini rilancia per la manovra paghino i banchieri ha dichiarato il leader della lega acqua razionata iniziano i turni la mappa e le zone che si salvano da oggi erogazione sospesa per 24 ore a rotazione palermo riscopre chiaramente l'incubo della siccità e poi alla cronaca altro sangue sulle strade siciliane incidenti in moto morti due giovani le tragedie a partanna di trapani e reitano questo purtroppo il bilancio di questo fine settimana e poi come ogni lunedì ampio spazio allo sport e al calcio in questo caso sulla prima pagina del giornale di sicilia che si sofferma sul palermo rosanero che disfatta la salernitana passa al barbera un altro k o per la squadra di dionisi stavolta in casa vince appunto la salernitana ora c'è la sosta si spera in una ricarica si spera che la squadra rosanero possa ritrovare nuovo entusiasmo il punto sulla serie a con la juventus fermata dal cagliari il milan invece che va k o a firenze dunque rallentano le inseguitrici del napoli capolista in serie c invece il trapani in dieci strappa il pareggio la spida con il sorrento finisce 1 a 1 andiamo in taglio alto annuncio del papa l'agrigentino reina nominato cardinale e poi addio a semi basso col sorriso sfido la malattia ovvero la progeria un anno fa invece la strage di hamas israele pronto a lanciare il contrattacco verso l'iran un italiano tra le vittime dell'attentato a giaffà sempre sempre più complicata dunque vedete la situazione in medio oriente proseguiamo con la nostra rassegna stampa vediamo cosa ci propone stamane in prima pagina la gazzetta del sud andiamo a vedere quali sono i titoli in primo piano poi chiaramente tutti i vari approfondimenti all'interno del quotidiano in edicola stamane dalla macello al nuovo waterfront messina tutto pronto per la demolizione dell'area dove sorgeva la facoltà di veterinaria il polo sociale e ricettivo da realizzare aumenterà la faccio a mare della città movimi agli sgoccioli vendute 18.000 tessere mentre esplosioni e colate laviche lo stromboli da spettacolo le attività del vulcano questi titoli vedete in taglio centrale sulla gazzetta del sud anche qui si fa il punto sulla guerra in medio oriente ridurremo teheran come gaza e beirut la nuova minaccia del governo israeliano all'iran non tarda ad arrivare la replica non scherzate col fuoco intanto è passato un anno dall'attacco di hamas oggi massima allerta negli stati uniti invece prosegue la campagna elettorale di donald trump e kamala harris verso le elezioni presidenziali ilon musk a raffica al fianco proprio di trump pennsylvania cruciale li vedete in queste immagini appunto trump e musk per i sondaggi finora è un testa a testa con kamala harris dunque la situazione è sempre più incerta vedremo alla fine chi sarà il nuovo presidente degli stati uniti noi intanto andiamo avanti abbiamo ancora tante prime pagine da vedere insieme questa mattina vi proponiamo ad esempio la prima pagina della quotidiano la repubblica andiamo a dare un'occhiata ai titoli in primo piano israele un 7 ottobre di dolore e ansia questo uno dei titoli e poi ampio spazio al raduno leghista di pontida la pontida nera di orban titola repubblica il premier ungherese invocato dalla platea come il leader dei patrioti e osannato quando parla contro gli immigrati salvini attacca il cancro dell'estremismo islamico e sul caso open arms il vicepremiere ministro dice non possono processare un intero popolo intanto giorgetti torna alla carica sulle tasse nel mirino banche e imprese lasciamo repubblica ci spostiamo sulla prima pagina della corriere della sera anche qui vedete l'argomento di apertura è lo stesso israele sfida tutti un anno dopo nell'anniversario dell'ecidio di hamas le parole di mattarella il capo dello stato bisogna scongiurare dice l'allargamento del conflitto intanto raid e incursioni a gaza e in libano l'iran minaccia se attaccate colpiremo ancora proseguiamo con la nostra rassegna stampa ci spostiamo adesso sulla prima pagina del quotidiano la stampa che apre con una importante ricordo un anno dopo vedete questa la prima pagina del quotidiano la stampa senza pace il titolo il 7 ottobre di un anno fa il massacro di hamas nel sud di israele oltre mille morti poi la risposta di gerusalemme a gaza 12 mesi dopo il conflitto si allarga insomma 12 mesi dopo questa terribile strage del 7 ottobre vedete la situazione è tutt'altro che migliorata anzi è peggiorata con continue escalation fino all'attuale quadro con l'ennesima minaccia da parte di israele poi la replica proprio dell'iran la prima pagina del quotidiano il giornale tasse e migranti questa la ricetta di salvini durante il raduno di pontida le parole del leader del carroccio a pagare siano i banchieri asse con orban e wilders e poi il dossier del 7 ottobre a un anno dalla strage lo speciale del giornale chiaramente come detto gli approfondimenti poi all'interno dei vari quotidiani è morto a 28 anni semi basso sfidò la progeria sempre con il sorriso sulle labbra e poi la nato in cambio di territori a chi è flora del compromesso le ipotesi di accordo questo scrive appunto riporta il quotidiano il giornale proseguiamo con la nostra rassegna stampa vediamo cosa ci propone invece stamane in prima pagina il fatto quotidiano che apre con questo preciso argomento intercettazioni brevi libertà di sequestrare e fare violenze l'ultima porcata sottolineano i colleghi del fatto quotidiano il pm menditto spiega le conseguenze del limite di 45 giorni la lega da pontida bombarda i giudici eppure l'alleato tagliani con urbano e vannacci sui migranti autonomia e ius scuola insomma tanti gli argomenti affrontati durante il raduno della lega e poi fidanzate lobbisti cugini amichettismo nel ministero della salute quelli che il merito scrive il fatto quotidiano amici degli amici alla corte di schillaci e lasciamo proprio il fatto quotidiano questa è la prima pagina del quotidiano il messaggero che invece apre con una interessante intervista al ministro piantedosi c'è chi vuole destabilizzare dice il ministro qualcuno prova a cavalcare la crisi medio orientale per alzare la tensione ghetto blindato per la commemorazione del 7 ottobre con meloni mattarella basta escalation l'appello lanciato dalla presidente mattarella israele invece intensifica i raid da gaza a beirut a un anno dalla strage l'obiettivo è simbar l'iran pronto all'attacco poi revoca lo stop ai voli e ancora il raduno di pontida salvini con orban sfida su europa e migranti e poi rilancia manovra paghino i banchieri il raduno appunto di pontida con i leader sovranisti e vannacci star di questo evento il direttore imps pensioni minime più alte si può parla vittimberga aumento sostenibile dice va difeso il potere d'acquisto delle fasce deboli lasciamo il quotidiano il messaggero andiamo avanti vediamo adesso la prima pagina del quotidiano il mattino tra le altre cose si parla anche di calcio e del napoli che arriva a questa ennesima sosta al primo posto al comando della classifica di serie a e allora poi saranno 20 giorni per il napoli di conte per dimostrare quanto sei grande titola il mattino la juve frena e gli azzurri provano la fuga per conte le cinque gare della verità adesso a fronte di un calendario relativamente facile arrivano le sfide importanti big match per il napoli a proposito di napoli il futuro di kvaraschelia il papà manager non accetta l'offerta di de laurentis e allora vedete la firma sul rinnovo del contratto resta un rebus e poi israele 7 ottobre di conflitti pronto l'attacco all'iran che ferma i voli attentato a giaffà c'è un italiano tra le vittime mattarella stop escalation a roma invece ghetto ebraico blindato per l'anniversario della strage dalla quotidiano il mattino alla prima pagina del quotidiano libero anche qui vedete il ricordo un anno dopo dalla 7 ottobre 2023 al 7 ottobre 2024 un anno di guerra per israele e tempo di colpire l'iran e poi gli scontri a roma il silenzio degli indecenti scrive in questo caso daniele capezzone la sfida del carroccio ovvero la sfida della lega l'internazionale di pontida salvini sul pratone con orban e wilders lancia la lega santa contro la sinistra europea l'islam radicale e i clandestini cittadinanza facile no togliamola a chi delinque guerriglia nella capitale la leader del pd ellie schline difende i manifestanti corteo per lo più pacifico avrebbe dichiarato appunto ellie schline mentre ilon musk al comizio di trump show e polemiche in questo caso si parla delle presidenziali negli stati uniti con la corsa verso la casa bianca ed ilon musk che appoggia si schiera apertamente con donald trump la prima pagina del secolo decimo nono orlando il programma bucci patto concilio per rilanciare il progetto della macro regione con piemonte lombardia in 60 pagine gli obiettivi del candidato di centro sinistra il rivale del centro destra punta sui sindaci e l'alleanza del nord il calcio sulla prima pagina del secolo decimo nono cosa sta succedendo a genoa e sampdoria genoa in serie a samp in serie b il momento nero delle squadre genovesi ennesima sconfitta in questa stagione per entrambe e non decolla appunto il campionato in serie b della samp e in serie a del genoa parliamo proprio di sport andiamo a vedere le prime pagine dei tre principali quotidiani sportivi italiani partiamo dalla gazzetta dello sport chiaramente si parla tanto di campionato dopo l'ultimo turno di serie a e un altro passo falso del milan indietro tutta titola la gazzetta dello sport milan che cade nuovamente la fiorentina invece va deghea para due rigori a teo ernandez e ebram furia della tecnico fonseca doveva tirarli pulisic non loro insomma il tecnico non ha gradito la scelta dei giocatori in campo di calciare i rigori e mettere da parte il rigorista prescelto che invece era pulisic l'inter invece vince conte arriviamo in zaghi secondo da solo a meno due dal napoli e insieme alla juventus potrebbero essere queste le tre squadre che si giocheranno lo scudetto fino alla fine ovvero inter napoli e appunto juve dalla gazzetta a tutto sport ieri però la juve ha frenato in casa vlaovic non basta tanti gol sbagliati la juve frena finisce soltanto uno a uno in casa con il cagliari e certamente non è un risultato positivo ma è comunque una juve che continua a essere molto equilibrata a subire pochissimi pochissimi gol però è arrivato questo pareggio che allontana leggermente i bianconeri dalla vetta della classifica e proprio il corriere dello sport sottolinea questo vedete x tiago il titolo perché si tratta del quarto pareggio in sette gare di campionato per la juve motta fermato dal cagliari vlaovic assegno ma non basta l'attaccante bianconero juve gelata poi da marin e terza a meno tre dal napoli ma siamo ancora a inizio stagione praticamente ci sarà tempo e modo per tutte le inseguitrici inter juventus lo stesso milan di recuperare punti sul napoli noi intanto ci fermiamo qui chiudiamo questa rassegna stampa odierna ma l'informazione lo sapete non si ferma sui nostri canali prosegue va avanti lungo tutto questo lunedì vi aggiorneremo con le nostre edizioni di spazio notizia e allora anche oggi come sempre vi invitiamo a rimanere con noi a più tardi a a a a a a a a